Come ti chiami e quanti anni hai? Mi chiamo Giada Legati e ho 20 anni. Dove vivi? Vivo in Bali, Indonesia. Da quanti anni fai surf? Credo che è 12 anni che faccio surf. Cosa ti è piaciuto di più di questo training? Quali che mi è piaciuto di più sono le onde, la squadra, credo le onde. Cosa ti è piaciuto di meno? I sassi. Ma il colonnello è davvero così duro? Sì, durissimo. Sono morta e mancano ancora 9 giorni. Vuoi andare ai mondiali? Sì, voglio andare. E ci andrai? Certo. Cosa pensi delle Olimpiadi? Per me sarebbe un sogno. Non sai se è la parte... Di la parola tua. Per me, vabbè, sarebbe il mio sogno e ci voglio andare con tutto il mio cuore. Secondo te, chi è il più bravo tra i surfisti professionistici? Wow. E... Big Funny è il mio preferito. E qui nel sabato puoi dire anche io? Io. Il compagno con cui hai legato di più? Evi, certo. Evi. Non è una domanda difficile? No. Di qualcosa che ci serve da casa? La pasta. La pasta. La cosa più importante che vuoi dire? PASTA Italia! Dai, 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 dai!